Ciao a tutti, nel video di oggi, Chiara scopre di essere finalmente negativa, mentre Fedez ancora no e si diverte a prenderlo in giro, ma Fedez si vendica con un piccolo scherzetto. Poi gioca con la Vitto facendola ridere, e le suona una canzone con la chitarra mentre lei si dondola sul suo cavallino. Vi lascio al video, buona visione! Se anche voi avete perso l'olfatto a causa Covid, c'è un ottimo test che potete fare per valutare il vostro stato olfattivo. Potete annusare il pannolino pieno di merda di vostro figlio o figlia. Se non sentite l'odore, siete come me. Madonna, amore, ma sei una cowgirl! Patata, ma come vai bene? Ma come fai ad andare così bene a nove mesi? Patata! Sì? Sì. Siamo carichi? Sì. Siamo i campioni del Gran Premio di Sonic? Sì. Amore, ti dice a me piace. No, a me piace, a me piace. No, a me piace il gelato. A te? Ti piace dire a me mi piace, ma è sbagliato? Si dice a me piace, oppure mi piace. Mi piace. Ok. Matta! 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 sono passati otto giorni da quando sono risultata positiva quindi con le nuove regole potevo fare un tampone e vedere e io sto facendo i rap in questi giorni erano due giorni che sembravo negativa e effettivamente anche dal tampone ufficiale sono negativa mentre Fede è ancora positivo quindi penso sia spero una questione di giorni quindi dai fantastico ma che gioia è non doversi tenere la mascherina in casa tutto il tempo proprio le gioie che ti dimentichi la sensazione musicale solitamente concorati al mondo del reggaeton che abbiamo preso abbiamo importato uè usciamo? sì usciamo dai vatti a vestire ma dove andiamo? a fare che con chi? perché? ma ci andiamo a divertire a te vuoi fare la balloria? sì io no e non mi va a te vuoi fare la balloria? a te vuoi fare la balloria? a te vuoi fare la balloria? a te vuoi내? a te nuviare la balloria? a te vuoi fare la ballare? Grazie a tutti.